Il primo impegno del 2021 per il campionato di Serie D è nel giorno dell'Epifania con le 5 abruzzesi in campo e due rinvie a Recanati e Porto Sant'Empidio che non riguardano le squadre della nostra regione. Decimo turno con la capolista Campobasso che va a far visita ad una vastese che dopo il capitombolo col Matese prima della sosta ha cambiato guida tecnica con D'Adderio che ha preso il posto di Massimo Silva. Le motivazioni poi con queste squadre qui che prima di tutto oltre ad essere un ex quindi io anche molisano è la prima in classifica e quindi di conseguenza questo la dice lunga sulla qualità della squadra anche l'anno scorso hanno fatto molto bene e quindi noi dobbiamo cercare di competere con la prima della classe nel migliore dei modi. Dobbiamo farlo nonostante le difficoltà che questa squadra ha riscontrato in questo periodo e quindi avere un approccio positivo per affrontare questa compagine che è molto determinata e ha grandi qualità. Speriamo senza fare proclami e senza dare false illusioni certamente di dire di impegnarci e di avere quel senso della maglia che deve essere secondo me in questo periodo soprattutto sentito e riscoperto da tutti quanti noi. A sperare nella vastese sono altre due compagini abruzzesi il notaresco ad esempio che al Savini affronta proprio il Matese in successo nel derby del Vomano col Castelnuovo ha dato slancio ad una compagine ormai matura per provare a battagliare fino alla fine per la vittoria del campionato. In più la retroguardia di Massimo Epifani ritrova Colombatti che a Castelnuovo ha scontato il turno di squalifica dopo il rinvio del match col Castelfidardo. I campani benché vittoriosi con la vastese non sono compagine impossibile e tutt'altro e finora in casa il notaresco ha sempre fatto risultato col solo neo del pareggio a redi bianche contro i rieti. Ma non solo i rosso-blu ti feranno vastese perché c'è proprio il Castelnuovo di Guido Di Fabio a sperare nell'uno in schedina. I nero-verdi però hanno un impegno difficile contro la Cinzia Albalonga in quello che sulla carta è un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. La società abruzzese nel frattempo ha tesserato l'attaccante esterno Manuel Manari proveniente dall'atletico Porto Sant'Elpidio e cresciuto nelle giovanini dell'Ascoli per poi passare alla Juve Stabia, Gubbio, Notaresco, Avezzano, San Giustese e Torrese. Una soluzione in più per il tecnico dopo l'arrivo di Marco Croce in mezzo al campo, segno evidente che la società nero-verde non vuole lasciare nulla di intentato. I laziali di Venturi però hanno messo insieme 9 punti su 12 in casa e hanno elementi come Gagliardini, Angelilli e Cardella di ottimo livello. Trasferta sempre in terra laziale per il Pineto a Rieti, a Baranto Celesti ancora nel bel mezzo di un probabile cambio di proprietà tutto da definire. È slittato infatti di qualche giorno ancora il passaggio nella lunga trattativa tra Riccardo Curci e Benedetto Mancini. Le parti sono in contatto da tempo ma l'accordo non è stato ratificato come ci si aspettava. Durante l'ultimo incontro infatti è emersa la mancanza di documentazione utile a chiudere l'accordo tra il commerciante reatino e l'imprenditore romano. Tutt'altro momento invece quello che attraversa la società biancazzurra che non ha di questi problemi. Ha appena tesserato Minnozzi dal Tolentino e anche con l'arrivo di Minincleri punta a dare sostanza alla rincorsa verso i piani alti della graduatoria. Il pareggio interno con la Cinzia al Balonga certo non è stato il risultato sperato ma il Pineto è ancora lì e ha poche lunghezze da recuperare a patto che non sbagli troppo gli appuntamenti come quello ad esempio di domani. Infine il Giulianova che ad inizio anno ha salutato Cristiano Delgrosso passato in Lega Pro alla Casertana e che se la vedrà alla Fadini con il Fiuggi. Giallo Rossi senza Ranellucci che appena ha subito un intervento che lo terrà qualche settimana lontano dai campi e soprattutto in attesa di rinforzi per uscire da una situazione di classifica difficile. Quattro sconfitte su quattro nello stadio amico sono una ferita enorme e anche la piazza inizia a dare segnali di insofferenza. Federico Delgrosso attende qualche acquisto ma dovrà attendere il match di domenica. Nel frattempo dovrà fare di necessità virtù e provare a strappare un successo che possa rilanciare le quotazioni salvezza dei giallorossi.